Buongiorno, buona domenica a tutti, pace e bene. Andiamo avanti. Il Signore ci ha dato la grazia anche oggi di aprire i nostri occhi e di vivere un'altra giornata. Come vogliamo viverla? Cosa vogliamo fare? Vogliamo essere un pezzettino di luce? Un pezzettino d'amore in più? Un pezzettino di misericordia? Ecco, io voglio salutare tutti. Siamo tantissimi e ci sono tante situazioni di gioia ma anche di non gioia. Per esempio è nata una piccolina frutto di un miracolo, di una grazia. E quindi auguri a mamma e papà. Un giorno la ragazza venne da me, da molto lontano, disperata, perché in qualsiasi modo aveva provato ad avere bambini. E io la guardai intensamente negli occhi ed erano occhi di sofferenza, come tanti occhi di sofferenza di tante giovani ragazze, di tante mogli, che però non hanno ancora il dono della maternità e forse non lo avranno. Però mi sentì di dire Fermati, sorellina, e trova pace nel tuo cuore. Io so che il Signore può, ma tu trova la pace. E se ne uscì da quella chiesa, serena, convinta di non provare più nessun metodo. Dopo un po' di mesi, seppi della notizia che era incinta e in questi giorni ha partorito. Auguri. Così come anche ci sono situazioni di dolore. Per esempio, conosco delle persone di questa grande famiglia che non escono più di casa, perché la malattia piano piano li sta consumando, divorando. Conosco situazioni davvero di dolore. Ed è per questo che oggi ho scelto una storia. La conoscete, la storia dell'anziana in crociera? Non la conoscete? E ve la racconto io. C'era una donnina anziana in crociera. E un signore la osservò. Che nonostante fosse sola su quella nave, era felice. E parlava con tutti i camerieri, con tutti i marinai, con il comandante. E questo uomo era talmente colpito da questa serenità di questa donna. E allora chiese a uno dei camerieri chi fosse quella donna. E lui gli rispose, non so molto di lei, però la vedo qui, già dalle quattro ultime crociere che stiamo facendo. E allora il giorno dopo l'uomo abbandona il pranzo perché vede la donna alzarsi da tavolo, sempre sola e le va incontro e cominciano a chiacchierare, fanno una chiacchierata piacevolissima. E l'uomo le chiede, so che lei ha fatto quattro crociere ultimamente, le posso chiedere come mai? E la donna risponde, perché una crociera è molto più conveniente per me della casa di riposo. Pago di meno. Vengo trattata come una regina. Ho la piscina gratis, la palestra gratis, gli asciugamani puliti. Ho le creme, posso richiedere anche la colazione in camera, i cibi sono squisiti. E poi ogni quattordici, quindici giorni posso incontrare gente nuova e poi c'è sempre personale e cordiale. Io così voglio finire la mia vita, stando con gli altri. Bene, chiaramente non tutti si possono permettere questo e non sempre. Per le condizioni di salute questo è possibile. Però permettetemi oggi di spendere una parola e di condividere con voi una situazione particolare. Intanto mando un bacio a tutte le persone che seguono i miei video dalle case di riposo. Io so perché mi hanno mandato delle foto che nei saloni delle case di riposo il pomeriggio mettono il rosario che trasmestiamo in diretta. Gli fanno sentire il buongiorno. Quindi un bacio enorme e un abbraccio immenso, immenso, immenso a tutti. Poi vorrei dire anche una parolina per i familiari. So che costa tantissimo fare delle scelte e sono scelte sofferenti e io vi abbraccio. Io non so se ne avrei la forza e se ne avrei il coraggio. Ma con amore vi abbraccio. Vi chiedo soltanto di dedicare il più tempo possibile ai vostri cari. Di non dimenticarli lì. E a tutti dico, anche a chi non ha persone nelle case di riposo. Potremmo anche iniziare un'ora di volontariato al mese, ogni 15 giorni, ogni settimana. Sceglierci una casa di riposo e andare a fare visita. Se si può, naturalmente. Io parlo in generale, poi ognuno sa come impiegare le sue opere di carità. Ma una cosa ve la voglio dire a tutti. Non mettiamoci mai in atteggiamento di giudizio. Diamo amore, diamo amore, diamo amore. Perché domani mi potrei trovare nella stessa situazione. L'importante però è non far mancare l'amore e il tempo. Ai nonni, ai propri cari e agli anziani. Mi raccomando. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso vi do una benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A proposito di video. Alle 8.40, oggi che è domenica, è alle 15.25. C'è la mia trasmissione, Fatti per il Cielo, su Padre Pio TV. Vi faccio conoscere un luogo bellissimo. Guardatela se volete. Oppure poi la potete vedere su YouTube. Attenzione, io non so più come dirlo. Molte volte, come funghi, spuntano pagine con il mio nome. Non sono io. Io ho una pagina Facebook, una sola, che ha oltre 200.000 follower. Mi basta quella. È un profilo Instagram con la spuntina blu, quindi significa che è riconosciuto. Mi basta quello. State attenti, state attenti. Buona domenica a tutti.